auspico a marille pen che domani vinca che sia la nuova presidente della repubblica francese perché grazie a lei tutta l'europa dovrà capire che l'euro e l'europa è finita dobbiamo tornare a chiudere i confini e a difendere il nostro territorio la nostra dignità la nostra cultura la nostra civiltà la nostra religione stiamo avendo un'invasione senza precedenti che ci porterà alla rovina e lo sfascio più totale quindi forza marille pen domani devi vincere sarai la nuova presidente della repubblica è una cosa che ti voglio dire che ti porterà fortuna in quanto obama ha detto che dalla parte di marcon e l'ultima volta che disse così per la clinton abbiamo visto che cosa è successo ciao marine e buona fortuna